ciao ragazzi benvenuto a questo nuovo video oggi su amazon è arrivato questo epilatore un operato molto piccolo della marca philips l'ho pagato 32 euro neanche tanto l'edizione br 275 vi faccio vedere come funziona così abbiamo la custoda si carino abbiamo il caricatore come vedete anche molto lungo così non c'è bisogno anche di una prolunga insomma molto molto semplice il nostro palapito carino carino una testolina le istruzioni varie che ci saranno all'interno della spazzolina e basta così sono le ultime cose che una spazzolina che magari pulire e una testolina allora apriamo questo prodotto qua così lo vedete è anche molto leggero faccio vedere come funziona io l'ho già fatto però si vede un pochettino accendiamo qua c'è anche l'allucina guarda che serve per farvi vedere che è molto carino all'inizio sembra un po' inquietante però se prendete la mano non c'è bisogno di un pochettino di crema, un pochettino di olio, un pochettino è meglio di una ceretta eh ve lo dico lascia liscia liscia la pelle ecco qua vedete fa un po' schifo vedete quanti peli per pulirlo basta semplicemente ah nelle istruzioni c'era scritto che si può lavare la testa ma le macchinette no quindi inizialmente togliete i peli così e continuate ancora una volta magari finito c'è questo cosino qua che si apre che si scorre come vedete qua lo dice dovete scorrerlo verso sinistra così tac e si apre lavate solo questo e questo lo tenete da parte magari ridate una spazzolata così oppure con un panno diciamo asciutto questo prodotto lo potete anche utilizzare per le braccia qua per il petto per la schiena anche per questi pelini qua fastidiosi del collo c'è molto easy e per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un gran like e anche scrivete sulla mia pagina ciao ciao